Assessore, si riparte con le domeniche ecologiche? Sì, è un'occasione per valorizzare i nostri quartieri, vivere gli spazi pubblici in maniera diversa. Saremo appunto a San Massimo, un grande coinvolgimento non solo delle associazioni del territorio, ma anche dei commercianti, che è il risultato del fatto che quando appunto si fa comunità, la comunità risponde. I veronesi hanno sempre risposto, anche gli anni scorsi. Sì, sì, assolutamente. Abbiamo iniziato questo percorso già da due anni. La risposta è sempre fantastica, appunto sia delle associazioni ma anche per il commercio locale. Ed è una bella iniziativa, data tutta l'età e anche per riscoprire la storia del nostro quartiere, come in questo caso San Massimo. Presidente, diceva che la risposta dei commercianti è stata addirittura entusiasta. Sì, veramente è stato un momento di grande gioia apprendere come i commercianti abbiano aderito con così tanto entusiasmo, con così tanta gioia a questa bella manifestazione e anche promuovendo loro delle attività e dei momenti specifici. Questo è segnale che queste domeniche servono per far rivivere la comunità, riappropriarci degli spazi con associazioni commercianti. È un modo con cui noi come amministrazione anche ringraziamo i quartieri e ringraziamo chi tutti i giorni lavora sul territorio. Anche conoscere il quartiere perché ad esempio si apre la chiesa e il campanile soprattutto. Assolutamente, questa sarà veramente un'occasione speciale in cui invitiamo tutti i veronesi e le veronesi a venire a vedere il bellissimo campanile di San Massimo ma anche le opere che ci sono all'interno della chiesa. Sarà poi l'occasione alla mattina invece di approfondire la storia del quartiere con Davide Peccantini che ci illustrerà appunto la storia di molti monumenti presenti a San Massimo. Grazie.